segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te insomma l'inizio dici tu non promette bene questa era l'opinione di alan voglio sentire al volo dato che poi andiamo in pubblicità sento borgonovo poi riapriamo la discussione ovviamente pubblicità perché non vorrei essere interrotto dopo che mi sono sorbito ok ci sto pubblicità e poi sento borgonovo mi sembra ragione per mezz'ora grazie pubblicità torniamo subito